I confinamenti e la infopandemia finiranno quando la gente smetterà di credere alla narrazione ufficiale, quando saranno troppe le contraddizioni sulle informazioni fornite dai medi e dagli scienziati di regime, quando la realtà preverrà sulla manipolazione. Ne è convinto Davide Rossi, 51 anni, laureato in giurisprudenza ed ex assessore comunale e provinciale. Ha conosciuto e frequentato le stanze del potere. Oggi si occupa di analisi politica e scrive per alcune riviste online. Di recente poi ha deciso di pubblicare un libro, edito da Arianna Editrice, dal titolo La Fabian Society e la pandemia. Come si arriva alla dittatura? Un'opera che, più di un libro, è una denuncia alla manipolazione che sta dietro alla narrazione terroristica del coronavirus, alla gravità dei ricatti legati alla campagna vaccinale e alle conseguenze sociali ed economiche di quanto sta accadendo. Davide, che cosa l'ha spinta a scrivere il libro? Come tutti sono andato scaraventato dentro questa vicenda dell'emergenza sanitaria che ha stravolto le nostre vite. E quindi ho deciso di utilizzare gli strumenti che io ho a disposizione, cioè quelli della conoscenza della politica e dello studio della geopolitica, per cercare di fare luce su alcuni aspetti di questa vicenda che sono poco chiari, diciamo così. E quindi, ad esempio, perché un uomo come Roberto Speranza, che non ha alcuna competenza in ambito sanitario, non fa parte di nessun partito importante, è stato posizionato in quel ruolo ed è poi stato confermato da Mario Draghi, nonostante che l'Italia abbia avuto dei risultati tragici nella prima fase della pandemia. Quali sono gli interessi, diciamo così, dei paesi esteri su questa vicenda? Ho cercato di mettere in fila, studiando documenti, studiando dati, fare luce su alcuni aspetti che non mi tornavano assolutamente di questa vicenda. La mia indagine, ha spiegato Rossi, è partita da un circolo elitario anglosassone denominato appunto Fabian Society, a cui sono legati, in modi diversi, importanti politici italiani, uomini, ha proseguito l'autore, che hanno una responsabilità nella gestione della pandemia e, come specificato nella quarta di copertina, nel libro vengono illustrati gli obiettivi di questo governo emergenziale e quanto questi coincidano, in modo inquietante, con quelli totalitari e antidemocratici dei primi pensatori fabiani. È emerso che nella gestione di questa emergenza, più che i partiti politici che siamo abituati a conoscere e a vedere in televisione, giocano un ruolo dei circoli elitari, delle società politiche ufficiali. Non si parla di cose da complottisti che esistono ufficialmente, ma che sono molto defilate rispetto ai riflettori dei mezzi di comunicazione di massa, ma sono queste che svolgono un ruolo decisivo nel decidere quali sono le politiche che noi viviamo sulla nostra pelle. In questa vicenda io ritengo che ci sia da vigilare perché dalla prevenzione sanitaria si rischia di sconfinare nel controllo totalitario delle vite dei cittadini. Nella gestione della pandemia l'Italia ha avuto uno specifico ruolo? L'Italia ha il ruolo di laboratorio in questa vicenda, laboratorio di un esperimento di ingegneria sociale che vede il nostro paese in primo piano in questa sperimentazione. Noi siamo stati i primi dopo la Cina ad avere il caso, almeno ufficialmente, di coronavirus e da quel momento in avanti le maggiori restrizioni, compreso il super green pass che è l'ultimo provvedimento, hanno colpito sempre per i primi l'Italia e poi sono stati estesi agli altri stati. Ci sono dei rischi per il futuro? I rischi ci sono perché questa vicenda ha introdotto molti precedenti. Ci sono state giustificate dall'emergenza sanitaria delle violazioni molto forti delle garanzie costituzionali e persino dei nostri corpi. C'è un principio giuridico anglosassone che si chiama habeas corpus che è plurisecolare e che prevede l'inviolabilità dei corpi delle persone. In questa vicenda, con l'alibi di proteggerci, questo principio è stato violato. Ed è un precedente molto pericoloso, per questo è importante vigilare.